La casetta di Prevedo è un regalo per voi! Ciao ragazzi! Ciao Prevedina! Ciao Barbara! Oggi faccio una sorpresa per te che potrà essere anche per i tippitini a casa! Veramente? Eh già! Guardate il video fino alla fine! C'è una sorpresa per voi! E sarebbe? Oggi apro questa casetta, questa cameretta delle pinipon, ma la utilizzerò per te! Ah che bello! E ti realizzo anche una casetta tutta intera con quella scatola che vedi dietro di te! Va bene! Ma qui accanto ci sono dei pattern che ho realizzato io in grafica e che, se vedete il video fino alla fine, scoprirete come poter scaricare anche voi per avvelire la vostra casetta e farla uguale a quella di Prevedo! Quindi adesso devi uscire! Come? Se no che sorpresa è? Ah va bene! Allora esco! Sai cosa vado a fare? Cosa? Vado su Mega Wow a vedere il tuo video di oggi! È vero oggi! C'è il nostro video di Mega Wow, quindi dopo aver visto questo video, correte a vedere anche quello! Intanto sì sì, brava, Prevedo! Vai che io devo lavorare! Dai, dopo ti faccio vedere! Ciao! Bene, ora che siamo soli possiamo cominciare! Allora, aprirò la scatoletta questa qui con la cameretta delle pinipon streghette, perché voglio utilizzare i mobiletti non per la streghetta acquaria, ma per Prevedo! E utilizzerò anche una scatola, vedete? Questa qui è una scatola di Smushy Mushy, questa me l'avevamo andata a giochi preziosi con dentro gli Squishy, ma potete utilizzare nello stesso modo anche una scatola delle scarpe o due fondi di scatole delle scarpe. L'ideale è arrivare ad avere una scatola con dentro questo, un'altra scatola, a cui taglierete i quattro lati, o soltanto tre, per avere questo, voilà! Ci serve appunto una struttura che si apra, in questo caso si apre pure troppo, quindi io adesso questo me lo vado a richiudere, così, perché la nostra casetta, eccola qui, sarà così. Quindi, guardate un po', vedete? Con una semplice scatola guardate quanto piano d'appoggio ho, perché ho quella parte lì che è coperta, più tutte queste parti che si amplieranno ancora. Le scritte non c'è problema perché le coprirò con dei pattern, i pattern me li sono già preparati, guardate un po' che cosa ho creato in grafica, questo è carino perché ho fatto tante lunette e stelline, eccola qui, e poi qui ho fatto una finestra e qui ho fatto una striscia che sarà una greca decorativa da mettere sui muri e ho fatto anche il pavimento, ovviamente tutto quanto in stile prevedo perché ho messo stelle e lunette, ovviamente sono piccole lune nere. Ok, cominciamo con l'apertura della casetta, della cameretta e poi prepariamo il tutto. Allora, questa è sempre della linea pinipon streghettine e dentro c'è una streghetta, un pet e una marea di pirulicchi che si smarriscono e poi un armadietto bara, una cassa, non d'ho morto, una cassa porta giocattoli, un letto e c'è anche il lettino per il pet, questo non l'avevo ancora notato. Bene, questo è l'armadietto bara, ti fa ridere, c'è qui una cosa che cos'è, la chiusura? C'è da capire bene, qui c'è la bambolina, adesso ti libero tesoro perché starai soffogando, cappellino omicetto, che è assomiglia quello di Katia, ma non lo è, la bambolina è parecchio diversa, oh gli occhialetti come quelli di Lollina, wow! C'è anche una collanina con il fulminetto, ti staccano un attimo i capelli, tesoro non te la prendere, aia, aia, ok? E veramente ti ho staccato un po' troppi pezzi, aspetta che ti ricompongo perché sì, vabbè che sei streghetta, però insomma divisa in due, ok? Il bello delle pinipon è che sono componibili e l'altra faccina invece è senza occhiali, sorridente, ma teniamo questa, dai, è troppo carina. Le codine, come saprete già, si possono staccare e scambiare con le altre bamboline, quindi si può staccare e mettere quelle di altri colori. Questa è la cassa per mettere i giocattoli o altre cose, qui c'è il letto, che carino, ok, non si smonta, non si monta, non si smonta. E questo è il micro lettino per il suo pet, pet dove sei? Eccolo qui. Ok, eccolo qua il micino, c'è la bacchetta gattosa, ci sono le carte perché come sapete, come avrete già visto, questa linea ha, ogni bambolina ha una sua carta identificativa, come se fosse una carta d'identità sotto forma di carta da gioco, eccola qui nel suo caso, lei è una strega dell'acqua e la sua pozione si chiama Noctem. E qui, carino, il cattonero, il pipistrello, anche qui ci sono delle greche e qui c'è l'adesivo da mettere nella bara, carino, molto bellino. Ma prima di mettere gli adesivi io voglio scoprire bene questa cosa qui a che serve, vedete? Allora, questa cosa qui mi ha incuriosito e di fatti questo armadietto ha una piccola magia perché con la bacchetta si apre, dentro evidentemente c'è una calamita, quindi uno fa così e si apre, quindi bellissimo. Non ha la vaniglia perché si apre con la bacchetta magica, bellissimo. Ok, vediamo gli adesivi dove vanno posizionati e posizioniamo. Intanto alzate il volume perché vi metto un po' di musica e vado veloce. Completata la cameretta è molto carina. Quindi adesso dobbiamo andarci a fare la casetta. È ovvio, se ci volete giocare con le pinipone, guardate, ha già tutto quanto e avete anche le bamboline. Ma altrimenti potete utilizzare i mobiletti e anche gli accessori, anche la sfera di cristallo con le LOL. Oppure mischiare, come stiamo facendo in quest'ultima storia, LOL e pinipone. Pronti? Andiamo verso la casetta e cominciamo a montare i pattern e tutto il resto. E ora passiamo alla parte casina e devo decorare appunto la casetta vera e propria. Allora, questi andranno a coprirsi perché non mi servono. Ho stampato, mi sono disegnata a mano e mi sono stampata dei pattern. Questo è quello del pavimento, questo è quello che andrà appunto sui muri. E poi mi sono fatta pure la finestra e la grechina. Ok, allora, mi serve una forbice e della colla. Questa è cartaceo, quindi mi servirà semplicemente della colla stick o del scotch per la parte con la carta. Mentre se volessi tante volte applicare del feltro o delle altre cose, mi servirà una colla un po' più forte, tipo questa. Una colla gommosa, multisuperficie, come la colla artiglio. Questa è una colla fatta in Italia che costa poco e funziona bene. Partiamo! Ecco, ora che ho messo i miei tre pavimenti, procediamo con la parte cameretta, quindi quella che sarà proprio la camera da letto. Dobbiamo mettere un altro pavimento, ma invece di metterlo centrale, lo metterò spostato, perché così ci sarà lo spazietto per il letto. Lo metterò, diciamo, così. E poi devo fare le pareti con il pattern a lunette. Ok, prendo le misure col righello, ritaglio e incollo. Ecco il primo, non è carino? Mi piace troppo. Mi piace troppo, è troppo carina. Sta venendo bellissima. Ecco pronte anche le due pareti interne, guardate che ho fatto, le ho leggermente piegate tutte intorno per mantenere il bordino più preciso, anche il sotto, visto che magari con la forbice non viene perfettamente regolare. Gli ho fatto una pieghettina in modo che è più resistente ed è anche più rifinito. E adesso colla, stick e appiccico tutto. La cameretta ha tutta la sua tappezzeria, le carte da parati, però manca una finestra, mica possiamo lasciarla con una cameretta cieca così. Quindi ritaglio questa finestrella e l'attacco in questa parete, che dite? O dietro? Ok, l'ho ritagliata e ho anche deciso, la metterò su questa parete. Però prima voglio mettere le greche, le greche sarebbero queste striscioline decorative, che adesso mi ritaglio e mi metto sotto la finestra, perché sennò poi dopo sarebbe complicato rifinirla. Quindi ritaglio, incollo a tutta la stessa altezza e poi metto anche la finestra. Et voilà! Adesso sì che posso attaccare la mia finestrina. Ecco ho fatto la cameretta, diciamo che è pronta, mancano soltanto le decorazioni, ma va bene così. Continuiamo con quest'altro pezzo, dobbiamo mettere la carta da parati, anche qui coprire questa roba qui e poi unire queste due parti. Quindi mi serve ancora questo pattern qui. Eccoli qua, ritagliati, bordati e preincollati. E adesso li applico. Ed ecco qui, pattern carta da parati, greca e finestrina. E questa è l'altra parte, vedete come combacia bene. A questo punto questi due pezzi li devo bloccare con dello scotch da questa parte, perché questa parte resterà sempre chiusa. Quindi metto un pezzo di scotch di qua, così questa struttura si fissa. Ecco ci siamo, quindi questa parte rimane fissa, questa resta così, questa si mette qui e possiamo mettere i mobiletti della pinipon. Che l'abbiamo, poverina, l'abbiamo appena scartata e già io l'abbiamo tolti. Questa la mettiamo qui. L'armadietto magico lo metteremo nella stanzetta. E ci rimane anche questo rettino, chissà, forse un giorno sarà del pet di Prevedo, non lo sapremo finché non lo... Intanto ci mettiamo questo, poi speriamo, vediamo se riusciremo mai a trovarlo. Prevedina? Eh, dimmi. Che ne pensi? Ma è per me? È per te, ma questo è solo l'inizio. Questa diciamo che è la prima puntata della tua casetta. È bellissima, mi piace un sacco. È piena di lunette. Esatto. Luna e nere. Eh, va bene. Ecco, per la mia condizione esistenziale è perfetto. Ma dai, Prevedo, non essere così. Mamma mia. Guarda, guarda, intanto io ti presento. Ciao. Ma lei è acquaria. Vi conoscete già? Certo, non dimenticare che io andavo a scuola con le streghette. Ah, è vero, Prevedo, scusami, ogni tanto perdo qualche colpo, ma questa parte della storia è nuova e quindi, insomma, devo ancora impararla. Allora, io direi che questa per adesso può essere una tua casetta, ma continueremo ad abbellirla e sarà sempre più ricca e più pop-up. La cosa carina che vi consigliavo, insomma, per fare di fare una casetta in questo modo è che poi potete richiuderla e occupa poco spazio. Utilizzate sempre scatole, quelle con il cartone pieno. Evitate il cartone ondulato finché è possibile. Prevedo che non ho capito. Non te lo spiego io. Allora, questo è il cartone ondulato, vedete, perché ha una specie di ondina dentro, tra uno strato e l'altro. Si chiama proprio così, cartone ondulato. Se potete non usatelo, perché avendo tante righe si piega e quindi magari vi fate delle casette che dopo due o tre volte che ci giocate si sformano e non sono più solide. Mentre invece vi consiglio moltissimo queste scatole qui che sono in cartone pieno, quindi non hanno l'ondulato interno, ma è soltanto un cartone spesso e duro. Vedete, tipo questa, se io mi taglio due lati soltanto ho già una casetta con un bellissimo pattern e ha già le mattonelle, diciamo che ha già lo sfondo. Insomma, sono molto belline. In genere si trovano negli empori o sono le scatole in cui in genere vi mettono i regali. Io ne ho tante grazie a voi perché spesso e volentieri mi arrivano nella posta. E la cosa bella di una casetta come questa è l'ordine. Perché voi fate così? Una volta che avete finito di giocare, prendete la vostra scatolina, ci mettete i vostri mobiletti dentro, anche le pamboline se volete. Aiuto! Un attimo. Ma pure a me! Sì, sì, tutti dentro. Poi prendete la vostra casina, la chiudete così, la girate e voilà. Scusate ragazzi, vi ho scegherato un attimo, però guardate, la casetta è chiusa, è una scatola, non dà alcun fastidio, si mette a posto facilmente, non si perdono pezzi, non si impolvera. E quando ci volete giocare? Eccola qui. Ragazzi, spero di avervi divertito, di avervi dato qualche spunto, qualche idea, ma vi volevo fare anche un regalino. Vi metto online, vi metto giù in descrizione, il link in cui potete scaricare, quindi stampare gratuitamente, i pattern che ho realizzato per questa casetta. Quindi potete farveli stampare dai vostri genitori, ritagliarli e avere gli stessi sfondi di questa casetta. E giù in descrizione vedete la pagina del mio sito che vi permetterà di fare questa cosa. Spero che sia una cosa gradita e se vi piace ve ne farò altri, farò altri pattern e altre stampe per cose miniaturizzate per le vostre casette. Bene, per ora è tutto ragazzi, grazie per l'affetto che ci date sempre, sempre, sempre e continuate a iscrivervi al canale. Qui vi metto due bollini, quelli dei miei canali, qui vi metto qualcosa di carino da vedere dopo. Ecco, ragazzi condividete i video, condividete le mie playlist, parlatene con i vostri amici. A volte vedo che sia nelle letterine o nei messaggi mi scrivete, ho parlato, ho fatto vedere il canale, è un'amica, adesso ne parliamo insieme. A me fa tantissimo, tantissimo piacere e ci aiutate a crescere ancora. Ragazzi continuate a seguirci, soprattutto perché continuano le puntate di Prevedo e ne vedrete delle belle. Un bacio a tutti quanti, ciao ciao! Prevedo ciao!